Musica Ben ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro giornale con la cronaca, il maltempo con attimi di terrore che sono avvenuti nel delta del Popper, l'imperversale di una tromba d'aria che ha mandato all'aria piante secolari tra Porto Viro, Rosolina e Taglio di Po e anche ad Albarella Tetti scoperchiati, danni alle abitazioni ma per il momento nessun ferito segnalato Insieme alla pioggia la zona del delta polesano è stata spazzata via da raffiche di vento fortissime devastate dalla furia anche le piazze di Taglio di Po e Porto Viro Sul posto per liberare le strade dalle piante cadute e per aiutare le persone a mettere in sicurezza le proprie abitazioni sono mobilitati i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e i mezzi della protezione civile E' stato spostato questa mattina il capitello dell'immacolata di Sant'Andrea di Campo d'Arsego Il manufatto debitamente imbragato è stato sollevato da una gru caricato su un auto articolato e collocato di fronte alla chiesa parocchiale L'intervento programmato da tempo è stato effettuato per garantire più sicurezza a veicoli e piedoni Nella intersezione tra la strada provinciale 34 detta anche delle cinturie e la provinciale 11 di Sant'Andrea in area della proprietà della provincia Infatti la provincia di Padova e il comune di Campo d'Arsego hanno sottoscritto per questo spostamento Un protocollo d'intesa per procedere a un'azione sinergica di progettazione e di realizzazione L'incrocio sarà riqualificato con una adeguata banchina stradale e il marciapiede per i pedoni L'intervento del costo di 86 mila euro è finanziato dalla provincia di Padova per 68 mila 836 euro E per gli altri 17 mila 763 euro ovviamente il comune di Campo d'Arsego Da mercoledì della scorsa settimana è ricoverato in coma irreversibile in un ospedale rumeno di Timisoara Dopo essere stato picchiato da un 27enne del posto per un banale incidente stradale Flaviano Pampagnin, 63 anni, imprenditore cazzaturiero di Fosso Con una fabbrica nella città rumena che sta ora lottando tra la vita e la morte Attimi di terrore invece questa notte alle 2 lungo l'autostrada a 4 tra Padova Est e Padova Ovest Dove tre pattuglie della polizia stavano inseguendo un'auto rubata Quando i conducenti hanno bloccato il mezzo sulla corsia di sorpasso fuggendo per i campi La poststrada di Venezia aveva individuato una Fiat Punto Bianca rubata a Preganziol Nel Trevigiano con due uomini a bordo Improvvisamente i due occupanti hanno bloccato la macchina in corsa nella corsia di sorpasso Lasciandola a fari spenti e fuggendo L'autostrada fortunatamente in quel momento aveva pochi mezzi in transito E la gente della stradale è riuscita a evitare incidenti deviando il traffico in altre due corsie ancora utilizzabili Due ore più tardi i due malviventi sono stati intercettati proprio lungo via San Nicolò Anzi via Nicolotto Maseo e a piedi hanno percorso diversi chilometri La polizia è riuscita comunque a bloccarli all'interno di un'area abbandonata tra la chiesa della pace e il tribunale Dopo un'altra ora uno dei due è stato bloccato Si tratta di un moldavo, 21 anni, senza fissa dimora e con sé aveva anche della droga Tra le accuse quelle di aver rubato una scoda a Ravenna oltre all'auto di Preganziol Il complice è riuscito a fuggire ma ora è ricercato dalle forze dell'ordine L'inizio dell'anno scolastico è a rischio A poco più di un mese dall'inizio dell'anno scolastico Nutro fondati timori che al 13 settembre la scuola veneta non sarà nelle condizioni di assicurare l'avvio regolare delle lezioni e delle attività A causa di vecchi e nuovi problemi che si sono affacciati durante questa estate calda sotto tutti i punti di vista Sono le parole dell'assessore veneto alla scuola Elena Donazzani in vista del rientro in classe di settembre E avvia quindi una disamina dei nodi risolti mettendo in difficoltà le realtà che appunto renderanno problematica e poco ordinata la ripresa dell'attività scolastica E ancora tensioni a Bagnoli nel centro di prima accoglienza per i migranti A San Siro protesta questa volta che scatta per il rifiuto del trasferimento da parte di tre richiedenti asilo in una casa a poca distanza dalla base All'origine della protesta appunto quella di essere trasferiti invece a Padova in città e non nelle strutture vicine all'ex base I tre sono stati accompagnati a due chilometri da Bagnoli in una frazione di San Siro all'interno di una casa gestita da una cooperativa I tre ganesi non hanno accettato la destinazione e se ne sono tornati a piedi verso la base Giunti nel lab hanno trovato il cancello sbarrato come già successo qualche tempo addietro Venendo respinti e creando quindi a loro volta tensioni Per evitare ulteriori degenerazioni i tre sono stati fatti rientrare alla base Aspetterà ora il prefetto di Padova decidere il loro destino Dopo l'ennesimo episodio sono continuate le polemiche tra gli amministratori locali Che chiedono una risoluzione definitiva per il problema dell'ex base militare Ormai giunta alla saturazione da diverso tempo E Sergio Giordani, ricordo, da giugno sindaco di Padova Dopo aver battuto il leghista Bitonci Si è trasformato nell'olfiere di un centrosinistra unito, inclusivo e pragmatico Però ieri ha risposto picche alla richiesta formale di Milan Di riprendersi i 300 profughi che prima erano sistemati nell'ex caserma Prandina di Padova Che la precedente giunta leghista, quella di Bitonci, aveva fatto chiudere E che erano in seguito stati trasferiti a Bagnoli Torniamo alla cronaca nera I carabinieri di Padova hanno smaltellato un'associazione delinquere Dedita alla consumazione di reati contro il patrimonio In particolare furti e rapine I manette a quattro italiani di etnia Sinti Che da gennaio ad oggi avevano portato a segno diversi colpi Tra le province di Padova e di Vicenza Il passo decisivo è compiuto I sindaci aprono la strada alla nascita di Acque Venete S.P.A. Il gestore unico per il servizio idrico Integrato in 110 comuni tra le province di Padova Rovigo, Vicenza, Venezia e Verona L'assemblea dei sindaci di Polesine Acque Riunitasi ieri pomeriggio in seduta straordinaria Alla presenza di un notaio Ha fatto approvato il progetto di fusione Tra i due gestori del servizio idrico integrato Che aveva già incassato il sì Dei sindaci di Centro Veneto Servizi Lo scorso 8 giugno Saranno mantenute entrambe le sedi operative Di Polesine Acque a Rovigo e di CVS a Musselice La nuova società resterà vicina ai propri utenti Mantenendo tutti gli sportelli attualmente aperti E dislocati in modo capillare Sul territorio servito da ben 510 mila utenze Nei giorni scorsi i militari della Guardia di Finanza Della compagnia di Bassano del Grappa Hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo Emesso dal GIP del Tribunale di Vicenza Dottor Massimo Gerace In relazione alle indagini coordinate Dal sostituto procuratore della Repubblica di Vicenza Paolo Fietta Il sequestro ha riguardato un immobile Cautelato fino all'importo di 50 mila euro Di proprietà di MB 52 anni di Tezza sul Brenta Legale rappresentante di due società Con sede nella stessa località In particolare l'esito delle verifiche fiscali Eseguita dai finanzieri Nei confronti delle due società Facendo capo a MB Entrambe evasori totali In quanto inoperanti agli obblighi Dichiarati quest'ultimo Era stato denunciato anche per violazione Dell'articolo 10 della legge 74-2000 Per chi è ritenuto responsabile Di aver occultato o distrutto addirittura Le scritture contabili La cui conservazione invece è obbligatoria La Giunta regionale del Veneto Su proposta dell'assessore alla scuola Conferma anche per il nuovo anno scolastico 2017-2018 Il buono libri per gli alunni meno abbienti Vi potranno concorrere Gli alunni della scuola d'obbligo E la secondaria superiore Compresi frequentanti i corsi triennali E quadriennali di formazione professionale Con un'isee familiare Non superiore ai 18 mila euro Nel caso in cui i fondi Non risultassero tutti impegnati Le risorse e le residue Saranno assegnati anche ai richiedenti Della seconda fascia Il buono regionale coprirà le spese Di acquisto libri di testo Elaborati come dispense e ricerche Audiolibri per i non vedenti Ausili per la didattica E potrà coprire anche le spese Per l'acquisto di computer, tablet Lettori di libri digitali Assicurando contributo fino a 100 euro Quest'anno il comune di Cadoneghe Aiuterà anche le famiglie Nelle spese sostenute per il consumo del gas Per farlo ha indetto un bando Per l'associazione di un contributo Il cui valore massimo Non avente diritto Sarà di 450 euro Un aiuto che sempre più spesso Si rivela necessario Per il bilancio familiare Che molti abitanti Anche di questa località Alle porte di Padova Ne hanno davvero bisogno E la nostra città Continua ad essere oggetto Di sberleffo di degrado Da parte di molti ospiti Più o meno graditi Estranei anche alla comunità padovana Ne è un esempio La foto che ci ha inviato Un residente di Piazza De Gasperi Che ha immortalato La scena di degrado Che vi mostriamo I cittadini di Padova Mostrano una giusta insofferenza Vesto le scene disgustose Immortalate e inviate Anche alla nostra redazione E parliamo dell'indagine Compiuta tra aprile e maggio Dei volontari di Lega Ambiente Riscontrata la presenza Di rifiuti Nella spiaggia Per esempio della Brussa Nel comune di Caole Su un'area monitorata Pari a 4000 metri quadri Sono stati trovati 252 rifiuti Ogni 100 metri di spiaggia Il 9% dei quali Provenienti dalle attività Produttive di pesca E di acquacoltura Come le reti Per Mitilli Su 10 campionamenti Eseguiti invece Lungo le coste Venete In corrispondenza Dalle foci dei fiumi Nei presi di scarichi Di depuratori Due risultano fuori Dai limiti di legge Ovvero la foce Del fiume Brenta In località Isola Verde a Chioggia E la foce Del fiume Piave Presso il lido Di Jesolo a Jesolo Il 10% Dei rifiuti presenti Sulle spiagge italiane Proviene infatti Dagli scarichi Dei nostri bagni Rifiuti buttati Nel water Che raggiungono il mare Anche a causa Di sistemi di depurazione Inefficienti Minacciando la fauna Marina Il 9% Di questi rifiuti Spiaggiati Pensate E' costituito Dai bastoncini Per la pulizia Delle orecchie Che vengono buttati Nei water In sole 46 spiagge Lungo la penisola Sono stati trovati Quasi 7000 Cotton fioc Quando l'impresa E' donna E' stato presentato Dall'assessorato Lo sviluppo economico Della regione Del Veneto Il nuovo bando regionale A sostegno Della piccola imprenditoria In Rosa La regione quindi Metterà a disposizione 3 milioni di euro Per il 2017 Per i contributi A fondo perduto A piccole e medie imprese Condotte da donne Neoprevalente capitale Femminile La regione Ha sottoscritto Con l'unione regionale Delle camere di commercio Un protocollo D'intesa Per il potenziamento Della operatività Della rete Gli sportelli unici Attività produttive In Veneto Soprattutto Con l'obiettivo Di ridurre i tempi Per l'avvio E l'esercizio Delle attività di impresa Semplificando E standardizzando I relativi Addempimenti Una maestosa Dimora Battaglia Terme Villa Selvatico Iniziata Iniziata da Bartolomeo Selvatico Ristrutturata e ampliata A metà del 600 Dall'illustre medico Benedetto Selvatico Riccamente affrescata Da Luca Ferrari Da Reggio Aprirà le proprie porte Al pubblico Nei dotturni d'arte Questa volta domani Alle ore 18.30 E per tutta la serata Bene Chiudiamo la nostra pagina Di informazione Vi diamo appuntamento Come sempre Alle prossime edizioni Grazie per averci seguito Buona visione Dei nostri programmi Grazie per averci seguito Grazie per averci seguito Grazie per averci seguito